3, 2, 1, ecco, ti presentiamo la prima stampante a marchio Celtic, il primo sistema FFF per produzione industriale, scopri subito. La scelta di Dedem di creare un proprio modello di stampante deriva dall'esperienza maturata in questi anni, ci siamo resi conto che ci sono alcuni segmenti di mercato che non riuscivamo a coprire con quello che era il nostro attuale portafoglio prodotti. Quindi la decisione è stata investire in qualcosa che potesse colmare e essere d'aiuto per i nostri clienti. Perché questa tecnologia? Abbiamo preferito utilizzare un processo consolidato ma migliorandolo in tutti quelli che erano i suoi punti critici, andando quindi a colmare quelle lacune tecniche che sul mercato non erano state ancora risolte. La scelta di produrre la macchina totalmente in Italia è stata fondamentale. La ricerca e sviluppo e la qualità e l'attenzione che abbiamo dedicato nella resa tecnologica del prodotto è assolutamente per noi un punto d'orgoglio. Sono stati curati questi aspetti a discapito di quella che può essere magari l'immagine della macchina futuristica per realizzare un prodotto di qualità tecnica superiore focalizzandosi su quello che era veramente importante, dare ai clienti uno strumento per realizzare quelli che erano le loro necessità. La scelta delle soluzioni tecniche applicate ci ha permesso di ottenere un prodotto di estrema qualità pur mantenendo un prezzo estremamente contenuto. Questo per andare a colmare e a realizzare qualcosa di veramente innovativo sul mercato, ma comunque di accessibilità per tutti i clienti in ambito industriale che hanno delle necessità specifiche.